Buongiorno ragazzi e ragazzi, posso usare le ascelle perché mi sono depilata, yeee Ragazzi e ragazzi sono qua in tutto il mio splendore, non è vero, faccio schifo, ancora mi sono truccata, mi devo mettere i gioielli, mi devo vestire, sono ancora in pigiama Ma vi voglio dare il benvenuto in questo vlog, so che tanti amate i vlog e finalmente oggi un bel vlog perché andremo a vedere la nostra probabile nuova casa Vi giuro che è paradisiaca, è veramente, cioè dovremmo fare un mutuo per comprarla, cioè si dice questa frase ironicamente ma ne penso che dovremmo fare due mutui per comprarla Perché vabbè però è stupenda, è veramente una casa da sogno, da sogno pazzesca, io sono troppo felice e per ora è un sogno però speriamo insomma di concretizzarlo Comunque oggi la vedrete anche voi e vi voglio far vedere, poiché in questi giorni c'è un po' di brufolettini, causa ciclo e varie cose Vi voglio far vedere la mia routine estiva anti impurità perché è una cosa che mi chiedete sempre, brufoletti, punti neri, impurità, macchiette, come faccio io, quali prodotti uso Che ovviamente trovate tutti sul mio shop online, carlitashop.com, ovviamente dove trovate solo il top del top scelto da Carlita, modestamente Ecco qua ragazzi, allora le ho messe tutti qua perché ho fatto delle story su Instagram, voi seguitemi sempre su Instagram perché io sono molto molto attiva Faccio un sacco di story e allora ho usato lo scrub al miere ragazzi, questo è fantastico, ha un ottimo profumo e illumina tantissimo la pelle Cosa importante è delicato, quindi non toglie l'abbronzatura Poi la mitica maschera al carbone ragazzi, questa è favolosa, toglie tutti i punti neri, purificante, sebo equilibrante, toglie anche i brufoletti Il grasso in eccesso vi lascia la pelle molto molto purificata, questa fatela, fateli due volte a settimana, veramente vedrete i risultati Questa già dalla prima applicazione, vi toglie tutti i punti neri e anche lo scrub, vi rende la pelle molto liscia, luminosa Poi il detergente viso purificante, questo anche ottimo, vi metto nel box info il link a tutti i prodotti Così subito li trovate su Caritas Shop, basta che cliccate sui link nei box info in questo video Questo è ottimo, proprio specifico, guardate, per pelle mista e impura, come c'è scritto qua Io lo uso sempre mattina e sera, è favoloso E poi il tonico, appunto mi sono passata il tonico, questo è un passaggio che faccio sempre Anche questo mattina e sera, anche più volte al giorno, è molto rinfrescante Questo schiarisce le macchiettine, toglie le imperfezioni, le impurità, è proprio ottimo, molto molto purificante Favoloso ragazzi, ha anche un ottimo profumo e chiude tanto anche i pori dilatati Quindi se avete anche il problema dei pori dilatati è ottimo Poi questo, questo ragazzi è una cosa che dovete provare, un siero all'aloe vera Vi giuro è favoloso ragazzi Io l'ho inserito sul mio shop per tutte quelle persone che veramente hanno problemi di acne, brufoletti Questo è proprio anti acne, sapete che l'aloe vera ha tante proprietà appunto anti acne, sempre equilibranti Anche lenitivo, quindi anche ad esempio se avete dei rossori, se tornate dal mare Oppure avete dei brufoletti, è buonissimo E soprattutto non secca la pelle, non è aggressivo, è addolcente E subito si asciuga, quindi è molto fresco, ve lo straconsiglio Sul contorno occhi sto usando questo e mi piace molto perché illumina subito il contorno occhi E toglie sia le occhiaie che le rughette, al melograno, è buonissimo ragazze E' una cremina che anche questa subito si asciuga Sono tutti prodotti proprio specifici per l'estate Che veramente sono freschi e quindi non vi danno problemi adesso che fa caldo Anche questa qua, questa è la crema Questa è la crema sebo normalizzante Proprio specifica per pelle mista e grassa Quindi questa è una crema viso perfetta come base trucco Perché subito si asciuga, mantiene il viso opacizzato e asciutto E in più contribuisce all'eliminazione dei punti neri e dei brufoli E' molto molto buona, soprattutto in estate La merete Come struccanti questi due ve li straconsiglio Questo è lo struccante occhi nostro su Caritas Shop Veramente ne vendiamo tantissimi E ci sono tante di voi che veramente non riescono a farne a meno Quando lo provate usate sempre questo Perché è uno struccante alla pappa reale e camomilla Naturalissimo, super bio Specifico per gli occhi Che non brucia e strucca tutto il trucco E' veramente favoloso Diverso da tutti gli altri Anche perché questo qua non unge e non lascia Quella sensazione fastidiosa di occhi appiccicosi Quindi provatelo e lo amerete E questa qua invece è l'acqua micellare fiori d'arancia Che questa io l'amo tanto Ed è una cosa molto fresca per struccarsi Soprattutto in questo periodo dell'anno Vogliamo qualcosa che subito strucca in fretta E che lascia la pelle fresca E questo è così E' veramente un piacere struccarsi con questa Perché sai che non ti appiccica Non ti unge Ti strucca veramente in un lampo E ti lascia la pelle freschissima Quindi è veramente buona Poi un bel barattolone vi dura un sacco ragazze Provatela anche questa è super naturale Beh sono tutti super naturali e bio Ve li straconsiglio E guardate l'inbox info Mi metto tutti i link Qua c'è il mio amorino Che mentre io dormo Lei praticamente Cioè mentre io faccio le story Lei praticamente dorme Guardatela Guardate il mio amorino Madonna ma lei ragazzi Anche praticamente quando fa caldo Lei dorme sempre sui cuscini Vuole le copertine Ma io a volte Mi mettevo paura Dicevo Ma non è che non ti senti bene Cioè la febbre Si è accaldata Cos'hai Invece no Poi ho scoperto Perché tanti di voi mi hanno scritto Carlita non preoccuparti Perché tutti ci uova Sono Hanno proprio sempre freddo E vogliono stare Sono molto coccolosi Vogliono sempre le coperte Cuscini E quindi Mi sono tranquillizzata È vero Momo Mi avete mandato anche tante foto Dei vostri pelosini Nelle coperte Nei cuscini Che dormono Ma lei Ma io voglio mangiarla Ma io voglio mangiarla È troppo morbida È morbida È panciosa È vero Tanti pollici in su Per pupi Vi piace vederla nei vlog È troppo bella Beh tutti gli animali sono belli Poi lei è mignolo Guardate sul divano Come è piccola Amore E Tadà Per magia Guardate qua Vi sono fatta un bel make up Estivo Adesso vi dico tutti i trucchi Che ho usato Questo è il make up Che mi faccio io Che adoro Sulla pelle abbronzata Vi farò Un video Vi farò delle story Su Instagram Perché io su Instagram Non riesco a caricare i video I GTV Quindi vi farò Sicuramente delle story Tutorial Su Instagram Comunque adoro Tantissimo Mi sono messa anche i gelli Carnetaggelli Che abbiamo rifornito Questi le adoro E pendenti Stella Li trovate Sono disponibili E poi mi sono messa La collana Cuore E la collana Summer Vibes Che è tornata disponibile Questi potete regolare voi La lunghezza Perché potete mettere Più lunghe Più corti Più corti Appunto Io L'ho fatti fare Con un po' Di catena Dietro Così potete metterli A varie lunghezze È bello Mettere più collane Insieme E ho messo anche Il bracciale E la caviera Che sono finiti Le ho fatti rifare So che mi chiedere sempre Quando tornano disponibili Probabile che per quando carico Questo video Siano disponibili Quindi date un occhio Allo shop E adesso vi faccio vedere I trucchi I trucchi che ho usato Sono questi qua Allora praticamente Uso sempre La NF Cream O la 2 O la 3 Sono veramente favolose Come BB Cream Queste sono Adoro Favolosissime È effetto seconda pelle Quindi molto naturale Ovviamente trovate tutto Su caritashop.com Poi il correttore Uso sia questo qua Il numero 2 Di Nabla Sia questo per le imperfezioni Infatti questo l'ho messo Sul brufoletto malefico Metto sia le occhiaie Che imperfezioni Il numero 3 Di Alchemilla Poi ho messo La cipria Per fissare il tutto Con il pennellone Io li amo Questi trucchi Vi giuro sono favolosi Il correttore Lo metto con quest'altro pennello Trovate tutto Su caritashop.com Abbiamo rifornito tutto Perché sono i miei trucchi preferiti Vanno sempre a ruba In poco tempo Però adesso L'ho rifornito Quindi li dovreste trovare Poi per gli occhi Ho usato la palette Aspettate che ci posso riuscire Ok Ho usato Eccomi Ciao Ho usato questa qua La sul blooming La amo Ragazze Questa va sempre a ruba È pazzesca I colori sono bellissimi Per l'estate Amo amo Davvero tantissimo E poi Perché è piccolina Perché è piccolina Quindi me la porto dietro E ci vanno proprio precisi Questi due Che sono Coralia E Nectarine Che sono i miei due blush preferiti Adesso vi faccio vedere Come viene carina Poiché li uso insieme Vi straconcio di fare questa cosa Così ho due blush In una sola confezione Allora qua ragazze L'ho composta Guardate come Come è carina Troppo bella Questi veramente Sono due blush Molto carini Coralia E Nectarine Io di solito Li uso insieme Oppure se voglio stare Un po' più discreta Metto questo È un po' più colorata Questo Comunque mi piacciono tantissimo E soprattutto Abbinati a questi due Come terra E illuminante Adoro E poi sulle labbra Voglio mettere un po' di Lucidalabbra Questo lucidalabbra Etere Che anche sono ottimi Questi lucidalabbra Ne vendiamo tantissimi Su Caritas Shop Sono completamente naturali E bio Per dare un effetto Rimpolpante Alle labbra Questi sono tutti I trucchi Che ho utilizzato Vi metto tutti i link Nel box info Così li potete comprare Facilmente Vediamo Vediamo Se ci riesco Allora Così è l'effetto Opaco Perché comunque Questo Rossetto È opaco Questo qua Rock and nude È bellissimo Ragazzi È un nude Fantastico Collici da labbra Molto bello Questi lucidalabbra Sono molto buoni Da quel tocco Di luminosità Praticamente È trasparente Rosato Però Da quella luminosità È effetto volume Bloss Vedete com'è bello Oddio No vabbè Mi piace molto di più È effetto labbra Molto più volumizzate Yeah Adoro Praticamente impazzita Con questo body Che adoro Troppo Ho messo delle foto Su Instagram Praticamente L'ho comprato Da Zara È bellissimo Ragazzi È favoloso E dietro Porta tutto il ricamo Anche dietro E poi mi sono messa Questi shorts Che avevo preso Sempre da Zara Sono tutti sporcati E poi le scarpe Mi devo mettere Le mie Nuove Louis Vuitton Le amo tantissimo Ragazzi Sono favolose Altre cose Ho fatto Altri acquisti Louis Vuitton Quindi fatemi sapere Se volete Un altro video shopping Ho comprato Tante altre cose Carine Allora Vi voglio far vedere Come faccio Gelati fatti in casa Perché intanto Me lo state chiedendo Sto utilizzando I preparati Questi qua Di Food Spring Vi giuro Vi vengono Dei gelati Buonissimi La cosa bella È che se leggete I valori nutrizionali Hanno pochissimi grassi Veramente Veramente pochi Pochissimi carboidrati E sono molto proteici Quindi è come Farsi un pancake Protego In effetti Però ti mangio Una cosa fresca E i gusti Sono pazzeschi E poi C'è anche Mango E vaniglia Sono troppo Troppo buoni E in pratica È molto semplice Prepararli Vi serve Questo qua Sempre di Food Spring E mescolate La polvere Con l'acqua E poi li mettete Nelle formine Adesso me li preparo E vi faccio vedere È molto molto semplice C'è anche le formine Se non avete le formine Potete anche Prendere Dei bicchieri Di carta E metterci Una stecchetta Un cucchiaino Insomma come si faceva Quando eravamo bambini Vi ricordate Poi alla fine Quando si congela Lo estraete Lo mangiate Ed è buonissimo Ragazzi Ve li straconsiglio E vi ricordo Vi ricordo che il mio codice Di Food Spring Vi fa avere Il 25% Di sconto Se siete Falle prime 10 persone Altrimenti Avrete Il 15% Di sconto Tutte quelle Di dopo Ed è Carlita Y Ve lo scrivo qua Approfittate Perché Prendetele Questi qua Sono buoni E sono perfetti In estate Quando volete Cambiare colazione Merenda Mi sto trovando Benissimo Adoro Tutti i prodotti Food Spring E il codice È valido Su tutto il sito Quindi Fate una bella scorta Grazie È semplicissimo Basta unire Io ovviamente Faccio questo Al cioccolato Però sono più buoni Anche mango È molto molto buono Provatelo Mi il gelato a mango Piace tantissimo Ci aggiungo L'acqua Super semplice Ragazze Veramente Semplicissimo Ok E vabbè Anche se è sgarrato un po' Non fa nulla Adesso Chiudete E Shakerate Questo è ottimo Questo qua Ve lo consiglio Questo qua Di Food Spring Lo shaker Anche per le proteine Viene super uniforme Adesso lo metto Nelle formine Mmm Mmm Oddio È già così buono Ma lo mangerai così Vabbè A volte lo faccio Vedete Vedete È molto molto semplice Ve l'ho fatto vedere Perché intanto Anche su Instagram Me l'avete chiesto Perché vi avevo detto Che Li stavo mangiando Mmm Buono 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 Con questa quantità Ve me ne vengono Più o meno due Quindi vi potete mangiare Due gelati a merenda Raga È fantastico Adesso li metto Nel congelatore Per Qualche oretta Nel congelatore E dopo vi faccio vedere Il risultato Eccoli qua E dopo vi farò vedere Il risultato Vengono buonissimi Mmm È buono È buono Fatti vedere Mmm Ragazzi È molto buono Questo cioccolato Mmm È buono È vero? Ci piace? Sì È buonissimo Ti vuole un po' di latte No vabbè Questo ci viene del latte Sì Ma cosa fai? Latte con biscotti? No Latte con il cioccolato Ragazzi Voi non ci credete Ma questo davvero Ha preso il latte Sto facendo Mmm Mmm Ragazzi Credetemi È veramente buono Mmm 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 Ah è super Amore Tu non sei normale Sì Guardate qua Cosa fai? Fai vedere È molto buono Un po' di mondo È cremoso Non è tipo ghiacciolo Provate Ragazzi È troppo buono Food spring Adoro Amore Domani Lo facciamo al mango Sì Adesso facciamo ogni giorno Un gusto diverso Mmm Oh ma davvero Mmm Buono 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 Buonissimo Complimenti Food spring Ragazzi Ragazzi Vi faccio vedere Vi faccio vedere la mia cenetta Fit di stasera È una cosa che amo Perché non li trovo mai Quando li trovo li prendo sempre Spiedini di pesce Con vari tipi di pesce Questi in realtà si potrebbero fare anche in casa Però vabbè Dovessi comprare un po' di tutto Ci sono peperoni E poi ci sono C'è il pesce C'è il calamaro C'è la spigola C'è il gambero Il salmone Sono molto molto buoni E anche un po' di polipo Che amo tantissimo Quindi faremo questa cenetta A base di pesce E verdure Sono davvero felice Stanca ma felice Perché ovviamente ci sono tanti impegni Che ci occupano Gran parte della giornata Però voi ci date tanta soddisfazione Con gli acquisti su Caritas Shop Quindi veramente noi ci impegniamo tantissimo A breve ci trasferiremo anche in un magazzino più grande Avremo un deposito enorme Perché comunque voi siete tanti in tutta Italia Noi facciamo tantissime spedizioni ogni giorno Quindi abbiamo bisogno di più spazio E grazie sempre per tutto il supporto che ci date Con i vostri acquisti Con le vostre recensioni positive Davvero per me è un sogno realizzato Quindi sarà un po' ripetitiva ringraziarvi Però davvero grazie Perché grazie a voi faccio un lavoro molto impegnativo Però che mi piace tanto E fare il lavoro che ti piace nella vita È veramente una cosa molto importante Quindi il mio messaggio è sempre quello di Inseguite i vostri sogni Anche se sembrano difficili Anche se è dura Anche se ci avete tutti contro Voi provateci E io così ho sempre fatto E sono una prova vivente Che davvero solo con la passione La determinazione Il sacrificio Volere potere E ci riuscite Però ci dovete credere Ci dovete credere voi Perché nessuno crederà in voi Se non ci credete voi Quindi è fondamentale Quindi mi sento di darvi questo consiglio E questa motivazione So che per tanti di voi Sono anche uno spunto Per una motivazione Tanti di voi che lavorano Che studiano Mettetecela tutta ragazzi Perché veramente poi arrivano i risultati E ve lo auguro con tutto il cuore Poi oggi questa cosa Che abbiamo visto Questa villa Veramente mi ha portato In un'altra dimensione Di speranza Di felicità Comunque di condividere Anche un altro piccolo sogno Con Dario E anche con voi Di prendere casa insieme E di avere finalmente Una casa mia Come dico io Bella E soprattutto In cui costruire una famiglia Perché questo È sempre stato il mio sogno Ho avuto sempre due sogni Quello di realizzarmi nel lavoro Di essere indipendente E mantenermi economicamente E fare una cosa che mi piace E quello di avere una mia famiglia Quindi con dei figli Dei cagnolini Quindi è tanto amore Una vita fatta di cose semplici Però autentiche Quindi spero di potervi dare Questa bella notizia breve Ovviamente stiamo visionando Varie case Però questa di oggi Ci è piaciuta un sacco Io vi mando un bacio grande Spero che questo video Vi sia piaciuto E ci vediamo al prossimo video Lasciate un pollice in su Al video Che fanno sempre tanto tanto piacere Anche i commenti Li leggo sempre tutti È tornato Dario Quindi mi metto a preparare la cena Vi amo Ciao Ciao family Ragazzi ecco la cenetta Qua c'è Pupi 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 Aspetta che cada qualcosa Lei è sempre sotto Ad ogni cosa Ho fatto lo spietino di pesce Ho aggiunto il polpo E poi ho messo i pomodorini Con l'origano Poi le melanzane Arrostite con il sesamo L'origano Le mie sarsine solite Questa fatta con Sassa di pomodoro Un po' di aglio In polvere Anzi a pezzetti Prezzemolo No scusate Allora Sassa di pomodoro Aglio Erba cipollina Un po' di limone E E così Un po' di aceto balsamico Penso di aver detto tutto Sì E questa invece fatta con Sassa di sèo a limone E prezzemolo E un po' di peperoncino Ci va ma me lo metto dopo Ce l'ho qua Me lo metto dopo Perché a Dario non piace Questo è il piatto di Dario Amore puoi venire? Sì E questa è la rucola Come verdure Buon appetito Che cenetta Guardate qua Alle 11 di sera Buonanotte Finalmente forse Questa giornata è finita Forse Criminal Cri-criminal Tu estilando flow Mami Muy criminal Criminal Cri-criminal 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 Cri-criminal